L'altra paura è la paura del successo, vi dicevo. La paura del successo è un cacchio di casino, forse l'unica vera possibilità, o meglio io vi parlo di esperienza, no? Io come l'ho gestita sta paura del successo? A un certo punto mi sono reso conto che due o tre volte avevo gli elementi e non facevo il salto. Ero arrivato lì per fare delle qualifiche importanti e poi ero io che quando era ora, perdonatemi la metafora calcistica, di tirare il rigore, mi cagavo addosso. Allora qui c'è una cosa che ho sperimentato e che vorrei donarvi, perché può essere uno strumento per ognuno di voi, per me ha funzionato. C'è stato un momento in cui io ho fatto il patto con me stesso. Non so se avete fatto un patto con voi stessi, i patti con se stessi sono la cosa più preziosa che possiamo fare nella vita, perché insomma noi la possiamo raccontare a tutti ma noi non ce la raccontiamo, lo sapete, no? Tre cose non si possono nascondere a lungo nella vita. Il sole, la luna e la verità. E noi a noi stessi la verità non ce la possiamo nascondere. Per cui quando noi ci guardiamo fortemente nello specchio e sappiamo che possiamo fare delle cose e non le facciamo, quello è il momento in cui veramente darci un out-out. Io ad esempio che cosa feci? Lo ricordo come fosse adesso perché quando mi chiedono Gianluca sta via lo scritto anche in Networker Vincenti, che mi auguro abbiate letto il libro Networker Vincenti, se non l'avete letto prendetelo anche quest'estate, utilizzatelo, leggetelo voi, fatelo leggere, serve per irrigare il terreno, serve per aiutarvi in modo tale che il semino della speranza, della possibilità che voi andate in giro a portare, possa attecchire su un terreno migliore. E quel libro nasce per quello. Lo scrivo anche lì. Io stavo per smettere. Quello è stato forse il momento in cui sono stato più vicino a dire mando al diavolo tutto. Erano passati tre anni e mezzo dal mio inizio. Però a quel punto invece mi sono reso conto che ero io che mi autosabotavo, ero io che avevo paura di farcela, avevo paura di quello che accadeva se veramente mi si aprivano il grande carriere, i grandi guadagni, il grande successo. Dovete sempre pensare, per spiegarvi quello che è accaduto, che io nasco da una famiglia in cui il denaro è lo sterco del diavolo, il successo è una cosa da cui scappare. Perché mio papà è un imbianchino con la quinta elementare, mia mamma è una casalinga, una cameriera con la quinta elementare, gente per bene, io sono cresciuto in una famiglia integra, a cui voglio un mondo di bene, però se avete letto Padre ricco, Padre povero, i miei erano genitori poveri dal puntista culturale, esperienziale e lavorativo, ricchissimi per altri aspetti. Ma da questo punto di vista non ho avuto da loro un boost, anzi ho avuto un freno. Io mi sono reso conto che a un certo punto, quando stavo per sbocciare, quella cultura che loro mi avevano dato un po' era la catena dell'elefante, no? Avete presente la catena dell'elefante? Lo sapete, ve lo sarete chiesti anche voi, com'è possibile che gli elefanti che pesano oltre una tonnellate sono l'animale più potente del mondo e al circo stanno legati da una catenella che potrebbero rompere in qualsiasi momento. Perché? Che cosa accade? Com'è possibile? È possibile perché quella catena non gli viene messa da adulti, se venisse messa loro da adulti la spaccherebbero subito, quella catena viene messa loro da piccoli e siccome crescono con quella catena, loro per i primi mesi della loro vita soffrono un sacco, ci provano a romperla, non ci riescono, così loro diventano adulti, potrebbero spaccare quella catena in qualsiasi momento, ma non lo fanno. Perché hanno avuto un condizionamento forte da bambini. Questo è quello che accade a noi rispetto al successo, ad esempio. Rispetto alle possibilità vere che noi possiamo esprimere, rispetto al nostro sbocciare, al diventare noi stessi veramente, a realizzarci. Poi da donne vale ancora di più. Però provate a immaginarvi che cosa accade in quel circo se succede un incendio e quindi l'elefante a un certo punto fa switch off, spegne totalmente il cervello e tira fuori tutto quello che sa fare. La spacca con la catena? Sì, in un secondo. Ecco, a volte nella nostra vita serve un incendio. Un bellissimo incendio è il patto con noi stessi. Quando noi ci guardiamo nello specchio, diciamo adesso Gianluca hai rotto il cazzo, adesso per tre mesi, per quattro mesi facciamo veramente quello che sai fare. Perché la roba incredibile è che tutti noi cerchiamo le cose straordinarie. Questo me l'ha insegnato Alex Zanardi in quel pomeriggio meraviglioso che noi abbiamo passati insieme nel novembre del 2016 sul palco di San Patrignano. Alex mi dice, Gianluca, tutti vogliamo fare cose straordinarie. Le persone non sanno, non si rendono conto che le cose straordinarie sono le cose normali, ma fatte bene tutti i giorni. Pensateci. Noi non dobbiamo fare cose strepitose. Ognuno di noi nel network, se fa colloqui, fatti bene tutti i giorni, è normale che cresce. Allora io lì prendo, faccio un patto con Gianluca, e mi impegno a fare una cosa. Mi ricordo ancora, era maggio del 99 e lì mi impegno con Gianluca, dico adesso per sei mesi, Gianluca, fino a dicembre 99, fai tutto quello che sai fare. E io lì mi impegno a fare almeno 20 appuntamenti tutte le settimane. Questo è stato l'impegno che mi sono preso. A fare cose bene tutti i giorni. Sono riuscito ad arrivare a fare anche, scrivetelo, mio record personale 58 colloqui in una settimana. Si fanno. E poi se volete ve lo posso raccontare, questa può essere un'altra puntata. La roba incredibile è che, secondo voi, è più fatica fare 58 appuntamenti a settimana o 4 appuntamenti a settimana? 4 appuntamenti a settimana. Perché i 4 appuntamenti li devi sempre inventare, tirar fuori, sono sempre quelli, lo richiami, lo insegui. I 58, tu non hai tempo di star dietro alle storie, alle paturnie. Tu sei un rullo. E quando fai, parte l'effetto valanga, sapete come nascono le slavine, no? Si stacca un pezzo di neve, inizia a rotolare, e diventa un quintale di neve. Questo è il nostro fare, il fare ha questa straordinaria magia nella vita. Insomma, io lì mi do questo impegno. E, se sono qua, è perché che cosa succede? Che io in quei sei mesi sperimento la vera potenza che l'essere umano ha, che è la focalizzazione. tutti noi sappiamo fare cose straordinarie, a patto che quella diventi la cosa più importante che vogliamo fare. Tutto ciò su cui ci concentriamo cresce. Quando noi vogliamo fare sette cose in una volta, non ne facciamo bene neanche una. Quando noi ci mettiamo su una cosa, ci dedichiamo attenzione, amore, tempo, pazienza, ci mettiamo tutti. Cazzo, lì succedono i miracoli. E lì, io avevo 23 anni, l'anno dopo, nel 2000, guadagnai 383 milioni. A 24 anni. Che cosa era accaduto? Qui avevo fatto il salto. Ma scrivetelo, non ero diventato più bravo. Avevo capito una cosa, che i risultati nella vita sono fatti di qualità del lavoro e di quantità del lavoro. Che fa più strada, uno scemo che corre di uno che ha sette lauree e che sta fermo, che cammina.